Giovedì 15 febbraio 2018, 46esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'acquario. La chiesa ricorda Santa Giorgia. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Giorgia e Sigfrido. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Fabri. Deriva da soprannomi legati al mestiere del fabbro, dal latino faber, fabbricante, artefice. È diffuso soprattutto al nord, con concentrazioni in Emilia e Toscana. La variante fabbro è specifica del triveneto, mentre Fabris è caratteristico del torinese, del milanese, del padovano e del veneziano. Accadde oggi. Il 15 febbraio del 2005 viene fondato YouTube, la piattaforma web di condivisione video. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiro, genito Gagliardi De Curtis di Bisanzio. O più semplicemente, il grande Totò, nato a Napoli il 15 febbraio 1898. La citazione da ricordare. Un'abitudine se non contrastata, presto diventa una necessità. Sant'Agostino. Dice il saggio. Un posto non è di chi non vi rimane. Proverbio russo. Un consiglio al giorno. Dopo una lunga giornata di lavoro, gli occhi sono arrossati e la testa è pesante. Per alleviare la stanchezza degli occhi, ci viene in aiuto la camomilla. Mettete 50-60 grammi di fiori in un litro d'acqua fredda e fate bollire. Lasciate quindi in infusione per 20 minuti. Applicate poi il decotto sugli occhi con un panno e lasciate agire per 5 minuti. Sarete sorpresi dalle sensazioni di freschezza e sollievo della vista.